Da Giove alla riviera di Ulisse, i viaggi di Gian Enrico, parte 1 Ehi, ciao ragazzi! Sono venuto a visitare un po' la vostra città perché mi hanno detto che era bella e allora voglio vedere un po' com'è. Andiamo a scoprire! Voglio atterrare qui, mi teletrasporto nel campetto da calcio perché voglio andare a vedere un po' com'è questa città Mi hanno consigliato questo albergo chiamato Aprodo di Ulisse Me l'hanno consigliato e ho notato anche una cosa e si chiama proprio come il nome del parco Allora, penso che proprio andrò a riposarmi prima di andare a fare un bel giro Ah, sono bello riposato! Sto andando un attimo a vedere cosa potrà esserci in questa bella città Wow! Ci stanno le montagne, la spiaggia e la neve Wow! A me su Giove non c'è neanche la neve Ragazzi, guardate! Questo è il mio primo bagnetto Voglio provare un attimo a nuotare Niente male Quest'acqua è purissima e limpidissima e poi questa montagna si tuffa anche nel mare Come l'ho fatto io? Infatti io mi sono buttato dalla montagna Oggi, ragazzi, è tutto Voglio andarmi a riposare in questa bellissima montagna Anche una bandiera dell'Italia Wow! Allora, penso che ci vedremo nel prossimo video, ragazzi Ciao! Per vedere un'altra volta Gianni Enrico Proviamo a rivedere a 10 like E se volete, scrivete dove volete vedere Gianni Enrico Per ulteriori contatti www.treia.fm.gmail.com Tra parentesi www.gtreiasphotos Saluto Francesco, Luca e tutti i nostri amici Condividete il video se vi è piaciuto Ciao ciao ragazzi!